ciao ragazzi 17 maggio e sono tornato per vedere come la situazione il tempo passa tempo passa e loro ci sono sempre belle cresciute sono belle giganti oramai guardate ragazzi questo è un bel posticino ogni anno regala la sua dose di spungole grazie a tutti diciamo che ho fatto bene a fare questo giro penso che poi alla fine sia anche poi quasi l'ultimo non credo che oramai quelle che ci sono raccogliamo guardate là un altro lì rispetto alla volta scorsa adesso ragioniamo come dimensioni va bene allora intanto vi saluto continuo a farmi il giro vedremo cosa riuscirò a trovare va bene ragazzi guardate che pallone guardate che spungola con una di queste ne faccio 20 di quella di due settimane fa ragazzi questa qua è spettacolare veramente bella un gambo una capocchia le morchelle giganti va bene un saluto ragazzi ciao a tutti ciao ciao guardateあっ guardate guardate Grazie a tutti.